Ovest secondo me di quanti blocchi secondo te nord ovest e non lo so allora nord ovest sarebbe dall'altro lato quindi meno posso provare meno 4.000 E con l'altra zero tipo cosa è successo c'è la guerra per le mele quali Allora provo è provo allora Dai alex su è una cosa veramente triste Cioè a me dispiace bubo tanto Secondo me La prossima volta cambiamo un'altra persona